Buonasera a tutti, siamo di nuovo al Roma i Fidelity, oggi è sabato 27 novembre e si sta per concludere la prima giornata di questa fiera che torna dopo due anni di assenza per motivi noti a tutti purtroppo e sono in compagnia di Italo Adami, fondatore Deus Ex Machina di Acustica Applicata, che è insieme a Fabio Liberatore, ovvero l'altra parte che è un di Acustica Applicata, che se qui anche per The Recorder Man magari ne parleremo in un'altra sede, e avete qui a Roma una sala molto bella, grande, più grande sicuramente di quella che abbiamo visto a Milano qualche settimana fa, con i vostri prodotti molto particolari che magari possiamo anche descrivere e con un impianto, un signor impianto che ci ha ben impressionato. Sull'azienda Acustica Applicata, detto estremamente in breve, è un'azienda che legalmente nasce nel 92, ma gli interessi di Acustica Applicata nascono prima, nascono quando io ero soggio di Alfredo Gallacci e di Stefano Rama in Sound & Music, quando si stipulò un contratto con la SG Tube Traps in America per fare i Tube Traps per l'Europa. Dopo questa attività venne rilevata l'Acustica Applicata dalla Sound & Music e la continuai a fare io con altri soggi, dedicandomi quasi esclusivamente all'acustica. Per chi è un po' più giovane ricordiamo che il Topalio era una fiera di riferimento fino al 2012 se non sbaglio, per quanto riguarda l'altra realtà, anche un po' di video che era a Milano, l'Hotel Quark, l'appuntamento di settembre, qua prima cinque giorni, quei quattro giorni decine di migliaia di visitatori e i Tube Traps erano dei complementi per la correzione dell'Acustica Applicata. Sì, noi ne portavamo su un tir, cioè ci trattavamo mezzo top audio. Era il prodotto per la correzione dell'Acustica Applicata. Sì, poi ci ho scritto anche un articolo che si chiama DAD, la storia vera, poi a un certo punto i Tube Traps, anche in conseguenza dell'avvento del CD, diventarono secondo noi un prodotto obsoleto. Ne parliamo anche col creatore dei Tube Traps, Art Noxon, della SG, ma lui rimase fedele ai Tube Traps, mentre noi a quel punto creiamo, Fabio ed io, un prodotto nostro, che sono i DAD, che è molto più moderno come risposta, molto più veloce come risposta, più aperto alle alte frequenze, che offre un suono più trasparente, eccetera, eccetera. E successivamente abbiamo dato vita alla famiglia dei risuonatori variabili. Tutte queste cose servono per seguire il nostro ideale di suono, che riguarda i nostri impianti, ma anche le cose che proponiamo ai nostri clienti, cioè di suono aperto, vivido, presente, trasparente. Ci tengo a dire che in queste fiere noi facciamo dimostrazioni a porte chiuse, ora, perché c'è stato il Covid, c'è il Covid purtroppo tuttora, ma in tutti i top audio che abbiamo fatto, l'abbiamo fatto anche in precedenza. Qualcuno ci ha detto che eravamo degli snobbe. No, non l'abbiamo, ci tengo a dirlo, che non lo facevamo. Non lo facevamo per snobbismo, ma per rispetto a chi veniva alle fiere ha bisogno di ascoltare con un pochino di calma e di silenzio. E continueremo, le nostre stanze saranno sempre così. Ci saranno sempre, se tu devi ascolto, di una mezz'ora dove spiegheremo un momento l'impianto e poi faremo sentire 4-5 pezzi di musica varia, come musica sinfonica, pop, rock, jazz e cantautori italiani, come sempre abbiamo fatto. E lo facciamo, ripeto, per rispetto a chi viene a visitare le fiere. Che penso voglia ascoltare? Mi trovi completamente d'accordo. Italo è una cosa che facciamo, anche noi facciamo degli eventi ovviamente in partnership con punti vendita di distributori ed è la nostra stessa filosofia che sposiamo al 100%. Invece Fabio, ci dai un po' un'idea di quali sono appunto questi prodotti per la correzione dell'acustica ambientale che avete? Perché sottolineiamo, magari per chi non è ferratissimo, nella materia non basta mettere due diffusori e un amplificatore perché una parte dell'impianto è la stanza e l'ambiente. Sì, certo, come diceva il mio collega Italo, è stata proprio sull'esperienza di tanti anni di produzione e vendita e soprattutto poi in Italia anche di applicazione sul campo, non solo nelle fiere ma in casa di tanti appassionati dell'uso dei tube trap che creò i presupposti per pensare a qualcosa di più evoluto, di più avanzato. In quegli anni lì, non certo per gli usi audiofili, la Saint-Gobain fece uno studio che chiaramente, ripeto, non era di sicuro fatto per l'i-fi, dove loro calcolavano che in un ambiente normalmente arredato, che poteva essere dalla sala di un cinema piuttosto che una sala domestica, più del 70% del suono che percepiva l'ascoltatore era riflesso riverberato dalle pareti. Questa cosa, calcolata appunto da chi ha inventato la lana di vetro che chiaramente ebbe un utilizzo enorme per tutto quello che era i trattamenti acustici, faceva riflettere noi ai tempi e noi eravamo altrettanto convinti che doveva essere prima o poi far riflettere anche gli audiofili. I DAD, il cui acronimo è Diffusion Absorption Acoustic Device, nasce proprio con l'idea di essere assolutamente consapevoli, non solo per una convinzione teorica, ma proprio per l'utilizzo sul campo di tanti anni dei tube trap, che un'acustica moderna non può pensare solo ad assorbire, i tube trap purtroppo per il 95% lavoravano solo in assorbimento, ma deve anche preservare quella quantità di suono all'interno di una sala d'ascolto che è molto facile mortificare eccessivamente con l'assorbimento e basta. E quindi i DAD sono nati con un equilibrio tra assorbimento e diffusione e soprattutto sono molto più reattivi, perché i tube trap andavano bene quando in uno studio di registrazione c'era un gruppo rock con batteria a basso elettrico che ti picchiavano delle botte da 100 dB di pressione acustica, allora chiaramente mettevi negli angoli questi, ma nelle sale d'ascolto noi abbiamo la necessità anche di riprodurre un clavicembalo, un quartetto d'archi, una voce semplice, un complesso jazz con magari tre strumenti e quindi è estremamente prezioso preservare la vivacità e la vividezza della musica anche quando le pressioni acustiche sono molto molto limitate. I DAD nascono con questo scopo. E poi c'è stata un'evoluzione, ho visto gli elementi invece con possibilità di accordatura, ovvero di... quindi ci sarà una prima fase di analisi immagino, su cui avete fatto anche scuole, mi ricordo di più di vent'anni fa, di software, di analisi che proponevate anche al Top Audio, se non sbaglio. Sì, Sound Analyzer, a dir la verità, l'abbiamo sviluppato all'inizio perché lo volevamo come uno strumento nostro di uso, come dire, per quando avevamo bisogno noi, nelle nostre sale o nelle sale che andavamo a trattare di clienti o durante le manifestazioni fieristiche, di uno strumento che ci aiutasse e il setup non fosse fatto solo a orecchio. E sviluppandolo volevamo qualcosa, sapete, sai benissimo perché anche tu sei molto competente sulle misurazioni, che avevamo altrettanto capito quanto poco indicative erano le misurazioni tra virgolette tradizionali. Fare una misura di risposta in frequenza in una stanza dice qualcosa, ma dice molto poco e soprattutto quello che noi volevamo era un'applicazione di facile uso sul campo, quindi che non ci fosse bisogno soprattutto di attrezzature mostruosamente costose. Veloce anche. Veloce e soprattutto che ci facesse capire quello che poi alla fine si può fare perché in una sala d'ascolto non è che possiamo buttare giù le pareti e spostare il diffusore e il punto d'ascolto di metri. Quello che si può fare invece è il lavoro del setup di qualsiasi appassionato audiofrio di spostare i diffusori e il punto d'ascolto di decine di centimetri, sì e no. Ecco lì era la cosa fondamentale per noi avere una un'interfaccia grafica che ci facesse vedere che cosa stava la linea di tendenza, se stavamo imboccando la strada sbagliata o la strada giusta. Il sound analyzer altro non è che far vedere contemporaneamente i due indicatori principali, il dominio del tempo e il dominio della frequenza. E vedendoli assieme che si capisce, mi serve poco vedere che c'è una risposta abbastanza lineare di frequenza però un'articolazione disastrosa e che quindi alla fine il suono è... Certo. Quindi lo scopo era avere una misurazione che ci desse un'utilità sul campo e soprattutto che fosse assolutamente correlata con una percezione di suono che sta migliorando o peggiorando. Giustissimo. Poi invece Itaro, passiamo a quello che avete portato al di là degli strumenti per la correzione dell'acustica ambientale, avete un pianto suonante molto interessante. Sì, la proposta più importante riguarda l'elettronica e alieno, che ci sono state una scoperta che ci sono piaciute tantissimo, che sono un'innovazione importante, che sono una via nuova, vorrei dire anche rivoluzionaria, un'invenzione di Fulvio Chiappetta, veramente un'idea brillante di come sfruttare le valvole nate per l'audio, le 300B, le 2A3, anche su amplificazioni in grado, per via della maggior potenza, di gestire anche diffusori di più bassa efficienza che i tradizionali 98 dB di efficienza, 100 dB di efficienza, per cui con questi amplificatori Alieno 250 che utilizza le 300B e il nuovissimo 100W che presentiamo qui per la prima volta, il primo giorno che suona al pubblico, questo nuovo finale che ha fatto Fulvio, che utilizza due 2A3, si riesce a pilotare diffusori di efficienza normale, intorno a 90 dB, come sono i più grandi diffusori. Quindi questo qui è un'idea veramente brillante, naturalmente con il pre-alieno, ecco, dove c'è questa tecnologia che Fulvio Chiama a Pozzo di Corrente, che riesce a tirar fuori 100-250W da schemi, da sistemi a valvola OTL, che prima erano dedicati solo a sistemi a molta più alta efficienza. Certo, assolutamente sì. E come è stata questa prima giornata invece come il pubblico? Molto intensa, molto intensa. Noi facciamo anche più fatica per via della cosa che lavoriamo a porte chiuse, per cui quando abbiamo le porte chiuse abbiamo sempre pressione esterna a qualcuno. Forse servire una persona in più che fuori. Eh sì, però ecco quando veniamo a queste fiere qui che funzionano e c'è una pressione di persone, abbiamo la possibilità di aver sempre la sala piena, quindi le persone metterle a sedere, spiegargli un po' qual è il sistema con calma, ricevere domande, dare qualche risposta e fare quello che dicevo prima, far sentire quattro o cinque pezzi di musica. E secondo me facciamo, ci riesce di fare un buon lavoro, ecco. Ma al di là delle fiere, siete presenti, cioè un appassionato curiosito che vuole ascoltare? Abbiamo sale, noi siamo una piccolissima azienda, abbiamo sale dedicate, sul nostro sito abbiamo degli appassionati, anche noi stessi che abbiamo delle sale, le chiamiamo certificate, dove ci sono alcuni nostri prodotti, possono essere prodotti dell'acustica, i diffusori o l'amplificazione alieno, dove è possibile ascoltare questi prodotti e farci un'idea, ecco. Le sale che diciamo certificate, così un po' pomposamente, ma insomma, è per dire che sono sale dove noi pensiamo che si possa ascoltare con correttezza, con onestà i nostri prodotti. Quindi ho visto, ci sono anche dei rivenditori per esempio con sale certificate o anche privati, anche privati che si trasformano in ambasciatori della filosofia agustica applicata. Quindi torno a dirvi che ci vedremo domani insieme a Giampiero e a Marco Cicogna, verremo a fare un'incursione violenta, tra virgolette, nella vostra sala, cercheremo di venire il prima possibile per ascoltare con più attenzione il vostro sistema che ci è tanto piaciuto. Grazie. Grazie ancora ragazzi e a domani. Grazie, grazie. 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 Grazie.